ebbene carissimi amici arriva la mia mystery box la scatola dei miei segreti vincenti solo in forma privata solo per i cinque più veloci che mi contatteranno svelerò dei segreti per vincere l'ambo e il terno secco tutto il meglio per vincere ambo e terno secco ogni mese 100 per una promozione riservatissima compresa proprio nella mystery box quindi chi vuole venite con me a scoprire ad aprire questa scatola misteriosa per vedere cosa c'è al suo interno tutto il meglio per vincere ambo e terno secco contattatemi o via mail o via whatsapp numero 348 7547 715 vi lascio questi riferimenti anche in descrizione la mia mystery box e la scatola dei miei segreti vincenti per vincere l'ambo e per vincere il terno ogni mese quindi contattatemi soltanto per i più veloci per adesso un saluto a tutto mister sbancolotto